Vi ricordate del video in cui abbiamo parlato del boom di dimissioni negli Stati Uniti e successivamente anche in Italia, avvenute nel post-lockdown? Ebbene, secondo un sondaggio di una piattaforma di lavoro statunitense, molti di quei lavoratori si sarebbero pentiti. Addirittura uno su quattro, tornando indietro, non lo rifarebbe. Ora, parlare di grande pentimento, come hanno fatto anche alcune testate giornalistiche, è sicuramente esagerato, perché comunque significa che almeno il 75% di coloro che hanno cambiato lavoro sono rimasti soddisfatti di questa scelta. Comunque è uno spunto interessante per analizzare in questo video quelli che potrebbero essere i criteri che ci spingono a cambiare lavoro o meno e anche per analizzare quelle che possono essere le potenziali interpretazioni psicologiche al fine di prendere una scelta soddisfacente che abbia un impatto sul nostro benessere psicologico. Quindi se in questo momento vi trovate in una situazione di incertezza di fronte a una scelta che vi spaventa, secondo me può esservi utile ascoltare questo video. Allora, partiamo dai criteri chiave. Quali sono i fattori che più orientano la nostra scelta di cambiare o rimanere nello stesso luogo di lavoro? Io credo che siano tre in particolare, ovvero i soldi, la mansione, quindi la tipologia di mansione svolta, e l'ambiente lavorativo. A quali di questi tre fattori diamo più peso dipende ovviamente da persona a persona e dipende anche dal momento della vita in cui ci troviamo. Per esempio inizio carriera tendiamo a dare magari minore importanza ai soldi e invece dare più importanza alla tipologia di mansione svolta. Altri invece, rispetto alla mansione svolta, danno più importanza all'ambiente in cui operano. Quindi se mi trovo bene con i colleghi e con i superiori potrò accettare anche un lavoro che magari non mi fa impazzire con una retribuzione che non è quella che mi aspetto, ma appunto baratterò questi due fattori per una maggiore stabilità e per un ambiente che ritengo più funzionale a quello che è il mio obiettivo. E di solito queste persone sono anche quelle più criticate da coloro che invece ritengono appunto il denaro come il criterio principale per operare le proprie scelte in ambito lavorativo. Come detto, un'altra variabile che teniamo molto in considerazione nella scelta del lavoro è la variabile flessibilità, o meglio, la libertà. C'è chi questa variabile la ricerca all'interno di un'azienda, quindi da dipendente. La ricerca negli orari di lavoro oppure anche nel luogo di lavoro. Per esempio molte persone, da quando si sono abituate a lavorare da casa durante la pandemia, hanno posto questo fattore in una posizione più alta rispetto ai criteri che valutano nella scelta del lavoro. Quindi molte persone non sono più disposte a tornare in ufficio e sono anche disposte a cambiare lavoro pur di mantenere questa condizione. Altri invece ricercano la flessibilità, o meglio, la libertà attraverso il lavoro da libero professionista o attraverso l'imprenditoria. E secondo alcuni esperti di finanza, questo tipo di strada non è solo auspicabile, è anche la migliore possibile. Per esempio il celebre investitore Robert Kiyosaki, autore del best-seller Padre ricco, padre povero, in un suo libro illustra i cosiddetti quadranti del cash flow. Dalla sua prospettiva il lavoratore dipendente è un punto di partenza, che però dovrebbe evolvere sempre in altre condizioni. Innanzitutto in un lavoratore autonomo, che quindi smette di lavorare per qualcun altro e inizia a lavorare per se stesso. Dopodiché il lavoratore autonomo dovrebbe divenire un imprenditore, ovvero dovrebbe smettere di lavorare per se stesso e cominciare a far lavorare altri per lui. Ovviamente l'imprenditore non è che smette di lavorare, anzi, in quest'ottica ha ancora più lavoro, ha ancora più responsabilità, ha ancora più rischi. E infine anche l'imprenditore evolve in un investitore, ovvero comincia a far lavorare i soldi per lui. Ovviamente questo schema non può essere generalizzato a tutti i casi, però secondo me è interessante perché offre una prospettiva che per molte persone non è neanche presa in considerazione. Infatti molti non valutano nemmeno l'opzione di lasciare un lavoro dipendente. Anch'io quando ho dovuto prendere la decisione di diventare libero professionista avevo molti dubbi, molte paure. Non ci sarebbe stato più nessuno che mi avrebbe pagato lo stipendio a fine mese. Il mio guadagno sarebbe dipeso direttamente dal mio lavoro, dal mio impegno. E ovviamente questo da un lato ti responsabilizza molto e ti porta ad avere molta attenzione a quello che fai, ma dall'altra aumenta i rischi, aumenta anche le ansie e aumenta anche la difficoltà, per esempio, di prendersi dei giorni di vacanza. E come sappiamo bene, uno degli aspetti più preoccupanti di chi si mette in proprio è l'apertura della partita IVA, perché c'è il mito che sia qualcosa di estremamente angosciante e che ovviamente ti dia poche tutele. Se da una parte è vero e sicuramente la partita IVA implica delle scadenze, delle responsabilità, dall'altro c'è anche da dire che negli ultimi anni avere una partita IVA non è così più grave come in passato. Soprattutto con la nascita del regime forfettario, in realtà la semplificazione della gestione della partita IVA è aumentata di parecchio e anche la tassazione in realtà non è così svantaggiosa. Inoltre sono nati tutta una serie di servizi che ti aiutano proprio a gestire la tua partita IVA e tra questi c'è anche lo sponsor del video, ovvero Fiscozen. Sono davvero felice di questa collaborazione perché io ormai utilizzo Fiscozen da un anno e mi trovo benissimo. In quanto psicologo libero professionista ovviamente ho dovuto aprire partita IVA e mi sono scontrato con la burocrazia che ciò comporta. E da questo punto di vista Fiscozen è perfetto perché si tratta di un team di consulenti fiscali esperti nella materia proprio della partita IVA che ti aiuta passo a passo. Io utilizzo la loro piattaforma anche per emettere fatture, comprese quelle elettroniche, e così non devo trovare un altro servizio che mi costa altri soldi. È davvero tutto semplice e intuitivo e se dovessi avere dei problemi c'è David, che è il mio consulente fiscale e personale, che mi risponde sempre via mail o via telefono. Inoltre il prezzo del servizio è sicuramente competitivo rispetto a quello dei commercialisti tradizionali. In più c'è anche vantaggio di poter far tutto comodamente da casa online. E Fiscozen appunto è specializzato proprio nella gestione delle partite IVA a regime forfettario, quindi se vi trovate in questa condizione valutatelo seriamente. In descrizione trovate il link per una consulenza gratuita e se poi decidete di acquistare il loro servizio avrete anche 50 euro di sconto sul canone annuale. Grazie infinite a Fiscozen per il supporto. Ora che abbiamo fatto una rapida panoramica di quelli che sono i criteri che dovrebbero essere presi in considerazione nella scelta di cambiare o di rimanere in un posto di lavoro, andiamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire quali possono essere le strategie psicologiche adattive che ci aiutano a meglio tollerare una scelta. Sì, perché prendere una scelta, anche una scelta banale, a volte può diventare difficile se abbiamo una certa impostazione di pensiero. E qui voglio provare a dirvi come io ho cercato di superare l'ansia e l'angoscia di prendere le scelte. Il primo punto è accettare il fatto che non possiamo essere certi della bontà di una nostra decisione, mai, neanche dopo che l'abbiamo compiuta. Per farvi comprendere meglio cosa intendo con questo punto, voglio citare uno dei miei libri preferiti in assoluto, ovvero L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera. Non so se l'ho pronunciato bene Kundera e non so neanche se ho già citato questa frase, questo passaggio in un mio video precedente, ma in ogni caso secondo me è veramente bello e quindi ve lo ripropongo. Non si può mai sapere che cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non si può né confrontarla con le proprie vite precedenti, né correggerla nelle vite future. Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non esiste alcun termine di paragone. L'uomo vive ogni cosa subito, per la prima volta, senza preparazioni, come un attore che entra in scena senza aver mai provato. Mi rendo conto che siamo passati anche in maniera repentina da un discorso molto pragmatico, molto materialista, a una frase poetica. Però in realtà, detto in termini pratici, pragmatici, questo significa che nella vita non è possibile fare dei test A-B. Cioè non è possibile fare delle comparazioni che partano dalle medesime, dalle identiche condizioni. Un test A-B, per esempio, nel marketing consiste nel creare due annunci pubblicitari e vedere quale performa meglio, a livello proprio quantitativo. Dopodiché si terrà solo l'annuncio che appunto ha dimostrato di funzionare meglio. Nella vita questa cosa ovviamente non la possiamo fare. Non possiamo sdoppiarci, vivere due vite in simultanea e poi decidere quale delle due portare avanti e cancellare l'altra. Ma nella vita si può fare una cosa, si può correggere gli errori in corsa. Ma serve ovviamente tempo per capire se si è sbagliato. Serve la prova dell'esperienza, quindi bisogna sbagliare. E in ogni caso rimane una valutazione soggettiva che viene presa in un preciso momento della vita con delle informazioni che sono per forza di cose lacunose. Non accettare questo dato di fatto significa per forza di cose illudersi e rischiare magari di sviluppare anche delle strategie psicologiche disfunzionali e disadattive, come per esempio l'iperazionalità. L'iperazionale infatti si convince che valutando ogni aspetto possibile, cercando di controllare ogni variabile in gioco, potrà prendere la decisione migliore in assoluto. E così ogni scelta diventa uno sforzo cognitivo enorme con il rischio anche di andare in burnout, in esaurimento energetico. E ciò comporta anche il fatto che ogni volta che si prende una scelta questa scelta sarà sempre insoddisfacente perché noi avremo sempre la sensazione di non aver calcolato qualche variabile in gioco. Dunque l'unica strategia adattiva possibile è quella che opera per prove ed errori. E ciò implica ovviamente una componente razionale, ma implica anche una componente istintuale ed emotiva che non possono e non devono essere escluse completamente dall'equazione. Questo ci permette di rendere il nostro processo di decision making il più efficiente possibile, che non significa non commettere errori appunto, ma significa accettare che l'errore è parte del processo di apprendimento. E questo vale anche per quelle che noi percepiamo essere delle scelte vincolanti per la nostra vita, le cosiddette sliding doors. Per esempio appunto che carriera scegliere, ma anche che facoltà studiare, e più percepiamo di avere opportunità, più percepiamo di avere scelta e più diventerà difficile scegliere e essere soddisfatti della scelta fatta. Questo nonostante il processo di dissonanza cognitiva post-decisionale che si attiva a livello psicologico immediatamente dopo che compiamo una scelta. E la dissonanza cognitiva ci aiuta proprio a andare a trovare delle argomentazioni che ci autoraccontiamo che sostengano la scelta fatta e che vadano in qualche modo a screditare l'opzione scartata. Nonostante questo rischiamo comunque di sviluppare senso di colpa per le scelte fatte e sviluppare anche tanti rimpianti e rimorsi. Quindi come se ne può uscire? Se ne può veramente uscire? Beh, parzialmente no, nel senso che comunque a livello istintuale noi come esseri umani percepiamo determinate scelte come più importanti di altre. Ma se ci pensiamo al livello razionale, è veramente così? Cioè esistono veramente delle scelte che non solo cambiano completamente la nostra vita ma che determinano il nostro benessere psicologico o meno. Ecco, io credo che questa percezione sia più che altro una percezione psicologica che però non ha a che fare direttamente con la realtà. Perché se ragioniamo a livello razionale, e qui sì che la razionalità è importante, capiremo che noi ogni secondo, ogni istante della nostra vita compiamo delle scelte. E queste scelte, queste micro scelte quotidiane, ci portano poi eventualmente nella condizione di fare delle scelte più importanti. Ma a quelle scelte importanti ci siamo arrivati proprio per tutta una serie di scelte che noi abbiamo giudicato come minori, che abbiamo giudicato come irrilevanti magari nella nostra vita, ma che in realtà poi sono state determinanti all'interno del flusso di scelte che ci ha portato in quella direzione. Infatti la scelta non è un momento. La scelta è un atteggiamento. Un nostro approccio nei confronti dell'esistenza e anche a livello psicologico ci si sta rendendo conto sempre di più che uno dei fattori più importanti, soprattutto in questo tipo di società, in questo modello di società, è la capacità di focalizzarsi sul presente e avere una prospettiva di vita che si concentri sul qui e ora e sul medio breve termine. Questo ci aiuterà a concentrarci sulle singole scelte quotidiane, sulle singole azioni che mettiamo in pratica ogni giorno, senza farci distrarre dai pensieri e dalle illusioni del lungo o del lunghissimo termine. Sì, perché più la nostra mente viaggia avanti nel tempo e comincia a costruire un futuro ipotetico e più si basa su delle illusioni. Questo perché più ci proiettiamo in avanti e meno informazioni abbiamo e quindi quel gap informativo che comporta l'andare troppo avanti nel tempo viene colmato da delle visualizzazioni che sono ipotetiche. E se la persona è una persona tendenzialmente ansiosa e pessimista, come capita molto spesso nel contesto odierno, quelle visualizzazioni saranno visualizzazioni negative e dunque portatrici di ansia e di paure che potranno distrarci invece dal presente che invece è lo stato temporale per eccellenza su cui dobbiamo mantenere il nostro focus. Ok Marco, tutto bello, ma come si concretizza questo discorso con la scelta del lavoro? Se io ho un dubbio se cambiare lavoro o meno, cosa devo fare? Ovviamente se siete entrati in questo video con l'idea che io vi dessi una risposta a un vostro quesito personale, beh, avete proprio sbagliato l'approccio. E state attenti perché questo tipo di approccio online vi porta a dei rischi enormi. Io ho provato a darvi delle riflessioni, ho provato a spiegarvi quello che per me ha funzionato non tanto nella singola scelta, ma nell'interpretazione di cosa significa scegliere nella vita, di cosa comporta scegliere nella vita. E se è vero che non possiamo mai essere sicuri al 100% che una nostra scelta sia stata giusta o sbagliata, è anche vero che la sensazione che vivremo nel presente nell'aver preso quella scelta, sarà comunque determinante per il nostro benessere psicologico. Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti, ditemi se in questo momento della vostra vita siete alle prese con una decisione che vivete come appunto spartiacque, oppure ditemi se in passato avete preso questo tipo di decisioni e come le avete affrontate. Insomma, raccontatemi un po' qual è il vostro approccio alle scelte, come vivete le scelte della vita, da quelle magari più piccole a quelle che invece considerate più grandi. Se vi piacerebbe sentirmi approfondire ancora questo tema, io vi invito a unirvi a Patreon, perché ho iniziato a condividere all'interno di questo spazio dei podcast che secondo me potrebbero interessarvi se avete apprezzato questo video. E i temi di questi podcast possono essere proposti direttamente dai Patreon stessi. Quindi chi mi sostiene può propormi una riflessione o un tema su cui gli piacerebbe sentire una mia opinione. Il tutto all'irrisoria cifra di 2 euro al mese. È una cifra bassa che ho scelto proprio per cercare di creare una community il più ampia possibile. Non mi interessa che ci siano poche persone che magari spendono tanto, ma preferisco che ci siano tante persone che danno anche un piccolo contributo, ma che insieme può essere importante per il mio lavoro. Valutate ovviamente voi se ne vale la pena come investimento. Grazie ancora per l'ascolto e ci vediamo alla prossima.